Il Rotary, come sempre, mette al servizio delle persone anche le proprie competenze. Quest'anno poi il motto sembra ritagliato su queste iniziative. Il motto di quest'anno è Siate Dono nel Mondo, che vuol dire che ognuno di noi ha qualcosa da donare, può donare le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie professionalità. Attraverso queste cose si riesce a cambiare la vita delle persone e nel limite possibile anche della società. Rotary Meda delle Brughiere, per il Fondo Famiglia Lavoro, come si può contribuire nel caso si volessero acquistare questi oggetti del Cardinale Scola? Allora, sul nostro sito www.rotarymeda.it trovate il catalogo, trovate le modalità per fare le offerte e trovate anche un facsimile dell'offerta. Come funzionano le modalità per l'aggiudicazione? Dopo la prima offerta si fanno passare 48 ore, se entro le 48 ore non c'è un'offerta superiore alla precedente, il bene viene assegnato.